Non si sa ancora con certezza se si tratta di un atto vandalico e involontario, quello provocato nella giornata di ieri al basamento in marmo della fontana in piazza 20 Settembre a Fano. Il caratteristico bacino ottagonale a marmi colorati è stato interamente rinnovato a fine 1600 dal veneziano Ludovico Terresini. La graziosa statuetta bronzea della Dea Fortuna è invece una copia fedele dell'originale, oggi situata al Museo Civico e posizionata al centro per abbellire la vecchia fontana realizzata nel 1576. Che cosa ne pensa? Non l'aveva visto? No, assolutamente. Ah, quella parte adesso la vedo. Esatto. Infatti Fano dovrebbe essere più accurata nel salvaguarda del patrimonio e valorizzazione delle cose che abbiamo, cosa che mi sembra che non è che le stiamo facendo tanto bene. A non accorgersi di nulla nemmeno gli operai che stanno eseguendo i lavori proprio davanti alla fontana per sostituire le condutture dell'acquedotto comunale. Noi lavoriamo qua ma siamo presi nel lavoro perciò non è che è difficile, io non mi sono accorto di niente. Ha visto qualcosa? No, non ha visto niente, solo che c'è un'idemia. Ci è passato qualcosa sopra perché ho visto le cose alzate e schiantate. quindi un ragazzino qualcosa non era una cosa da teppista insomma, è una cosa più da qualche macchina. Un incidente? Sì, per me, perché era una cosa di questa dimensione, staccata dal coso, infatti c'è rimasto il problema, io ieri, il mio figlio ha detto, babbo guarda là, ho visto niente, io non ho visto niente, e poi dall'altra parte, perché qui davanti magari lo vedi, non ci fa nemmeno caso. A fare un primo sopralluogo oggi è stato l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani, che si sente di escludere l'ipotesi dell'atto vandalico. Secondo lei è un atto vandalico oppure un incidente? Non mi pare, mi sembra più un incidente, un urto che ha frantumato un po' questa lasta che forse l'ha segnata già, penso facilmente recuperabile, perché c'è uno scollamento dal massetto sottostante, è un frammento angolare, quindi probabilmente è un'operazione di carico scarico, qualcosa è successo. Non mi pare un atto vandalico perché non c'è l'intenzione, al limite queste cose si concretizzano con le scritte, con una firma in genere, qui mi pare che manchi la firma. Però avete già portato via il pezzo? Mi pare che adesso l'ufficio lavori pubblici l'abbia preso, dopo che prendevo informazioni stamattina, per un interesse dell'assessorato alla cultura, ovviamente noi stiamo attenti al destino dei monumenti, per capire in quanto tempo potrà essere risistemato.